E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida. Questo è VRC3. E' amici di Youtube, amici di Fruitlab, bentornati qui con un nuovissimo video per quanto riguarda VRC3 Road Glory, modalità Road Glory, VRC World Rally Championship. E questa volta, sempre qui nell'area scardina, abbiamo da fare le prove speciali, che sono esattamente... Ah no! Ah si! C'è il Crash Run, il contest e niente, andiamo a fare questo qui, vediamo un po' di guadagnare 4.800 punti per prendere tutte 5 le stelle. Ci proviamo quello lì. Ok, buona visione amici! Ci sentiamo poi al termine del video. Ciao a tutti! Crash Run Contest Il nome di questo evento parla da solo. Colpisci quanti più bersagli possibile ed evita i test. Se non dovessi farlo nel minor tempo possibile, potrebbe addirittura sembrare facile. Quindi spiegare tutti i test. Giunghi Non dovessi prezzi farlo dai Di nuovo Tutto ok? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.